Amici di WeSport, un cordiale saluto e bentrovati al Gescal Stadium di Messina. Si gioca la non aggiornata nel campionato Under-15 regionale. Il Real Gescal di Mr. Herman Calafati ospita il Messina di Mr. Umberto Fabiano. Nell'ultimo turno la formazione bianco scudata ha trovato una vittoria contro la Stella Nascente. Ricordiamo Messina fuori classifica di questo girone che fin qui ha collezionato sette vittorie ed una sconfitta. 4-2-3-1 per i peloritani con Manuel Villarimporta. La difesa vede Capuana, Puglisi, Melvi e Ingalis in mediana. Trovano spazio Romeo e Mangiola in avanti. Manganaro alle sue spalle, Ferrara, Morvillo e De Luca. Inizia la partita subito Ferrara all'occasione dopo cinque minuti. Manalza oltre la traversa dall'altra parte Viscuso appoggia Peroteri. Cerca spazio, vuole il mancino leggermente a lato. Buon momento per il Real Gescal al minuto 23. Si ripresenta in zona offensiva con Oteri che impegna così Villari in due tempi. L'estremo difensore della Messina, minuto 24. Ancora una chance per i ragazzi di Herman Calafati. Bonifacio riceve i 17 metri, impegna così Villari. Ma non, bravissimo l'estremo difensore della Messina a respingere. Minuto 30 prova a ripartire la Messina con Ferrara che lancia Manganaro davanti un avversario. Riesce a saltarlo, Manganaro davanti alla portiere. Manganaro, conclusione deviata che finisce il rete. Il Messina è in vantaggio, minuto 25. Il gol è quello di Manganaro che al trentesimo potrebbe trovare anche un'altra rete. Vediamo come lancio per De Luca che se la porta sul sinistro. Sterza De Luca, conclusione. Riesce a respingere il portiere, ancora De Luca. Ma di fatto sulla linea Manganaro blocca la conclusione del compagno. Al trentacinquesimo però trova il 2-0 il Messina con Morvillo che sventaglia a sinistra. Arriva De Luca che la controlla e poi da distanza ravvicinata insacca per il gol del 2-0 del Messina. Siamo sul finire della prima frazione al Gescal Stadium. E dopo un minuto di recupero le squadre guadagnano gli spogliatoi Messina avanti 2-0. Sul Real Gescal decidono i gol di Manganaro e De Luca. Partita tutt'altro che chiusa. Inizia infatti la ripresazione confusa. In zona offensiva per il Real Gescal la sfera termina sui piedi di Reiti che con questo destro insacca l'1-2 e riapre la partita. Real Gescal che sembra aver approcciato molto meglio rispetto al primo tempo e la Messina resta un po' a guardare. Siamo al quarantesimo quando esce Ferrara ed entra a Trimarchi. Minuto 43 calcio di punizione sulla lunetta Vauteri. Il suo mancino batte Villari e trova il 2-2 il gol del pareggio. Attenzione 47esimo respinta ai Puglisi sui piedi di Gulli che incredibilmente fisse il risultato sulle 3-2. 12 minuti di gioco ha ribaltato il Messina e il Real Gescal. Minuto 65 non riesce a creare tanto in zona offensiva il Messina. nella ripresa eccezione fatta per questo mancino. A lato di Morvillo finisce così la partita. Il Messina cade per la seconda volta in questa stagione nel campionato. Under 15 regionale dopo la sconfitta in casa. Della giovanile Rocca arriva quella in casa del Real Gescal. Finisce 3-2. Un cordiale saluto e come sempre alla prossima.